Venti via, via! E' domenica mattina e siamo qua fuori da casa nostra e quello che vedete dietro è Alessandro e questa è la sala, stiamo andando a volare col drone rispettivamente con il drone della Barbie e col drone che abbiamo preso sul sito cinese su Wish è il suo compleanno è il suo compleanno, vediamo dopo Allora, dove andiamo ragazzi a fare col drone? Andiamo vicino al centro sportivo Questi droni da bambini sono eccezionali, guardate un po' come Matrix Stiamo mettendo via i fili del mio drone Questo drone è pazzesco, cioè cade e non si rompe è una cosa fuori testa neanche il DJ Phantom da 4.780 milioni di franchi ne fa questo e l'abbiamo pagato 30 dollari Abbiamo messo il supporto della GoPro ci vediamo dopo Siamo arrivati qua in location, siamo alla scuola SIC di Gordola e è un bel posticino perché abbiamo un sacco di spazio per far andare la nostra Red Bull il pilota della macchina? Alessandro Andiamo avanti Cari amici del vlog queste sono immagini in esclusiva per voi il canale Emerald il pilota è Alessandro Smeraldi e Enrico Smeraldi Spero che vi è piaciuto il nostro video incredibile va tutto a destra, c'è la convergenza andata Oh! Emerald Queste sono le fortune di abitare in Campiania riesci a trovare un asino più di te nel giro di due minuti è fantastico, è pazzesco Ragazzi non vi conviene che collegarvi non lunedì prossimo ma quello dopo perché partiamo andiamo a Capoverde per il vlog super da 5 puntate e più di tutto il resto vi aspetto sul nostro canale io, Alessandro e Family va bene Ale? si comunque dovete iscrivervi al canale è una roba uscita ciao 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 ciao